Ragazzi, prepara il televoto, mi raccomando, vai! La storia dell'hip hop italiano è abbastanza lunga da aver già creato dei classici da lasciare alle nuove generazioni. Tra questi, da un brano che rivive su questo palco in una performance di Lazza, uno di questi assoluti della scena musicale italiana che ha avuto accanto a sé due donne dalla forte personalità. Grande uomo! Oddio, il limonano! Una lezione ottima, vero? Ora limonano. Sono piena di virtù, eh? E anche piena di... Ehi! Sai che stai bene con quella borsettina? Come cazzo ride? Il titolo della canzone è La Fine. La Fine. Il testo di Nesli, musica di Marco Zangirolami. Brava. Sì, porco. Dirige l'orchestra, il maestro Enzo... Beppe Bellosticchio. Air Campagna! Air Campagna! Con il codice 06... Perfetto. ...quanta Lazza... Sì! ...con Emma... Sì! ...e Laura Marzadori... Il marzone! ...della scala di Milano. Let's go! E sono soldi! Che eccolo! Le... F... Ciao tutti! Ciao F, ciao Jay, ciao Zala! Fai l'Aza! Dai a Roma! Forza magica! Oh, è tipo Overture Godo. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuto. Mamma! Mi spinta ha conquistato me, figlio mio va vissuto. Ufff! Mi spinta lo guarda in faccia, e quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Wow! Wow! Grande! Arriverà alla fine, ma non so... Wow! E su di te è un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. ...disegnarlo. Ok. Per ti parlo, parlo da sempre, nella mia stessa vita. Bello! ...sì! ...che fosse oggi, in un attimo già... ...domani! ...di miei piani! ...perché sarà il migliore. ...bello! ...di senza parole. ...di un attimo già... ...domani! ... Tutti i miei piani! ...come unј murder mi lascio a tutti senza parole! ... necessine dolce perché amaro, come il passato! ...dai! ...segli anni migli!!!! ...sì!!!!! ...dalle mie paranoni comi im ultima gran... ...U starmi fuoriło a te e già arrivato una greva. ...dai! ...di e su, su, su 61, gradi sono! ...dai! ...daoàо... ...di e tutti i miei piani! ...dai! Già domani Tutti i miei piani Perché sarò migliore Perché sarò migliore Se oggi Già domani Mamma l'arco Oh 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 Lazzar al piano Lazzar al piano Di senza parole Al piano Lazzar Oddio Tutti i miei piani Perché sarà migliore E io sarò migliore Tutti senza parole Cazzo Il bacio Il bacio Let's go Let's go Grande Che pezzone Che pezzone Meraviglioso Bellissimo Arco stupendo Violino della Madonna Complimenti Violino di Cristo Queste due meravigliose donne Per favore Grande C'è i punti al fanta Capitano Let's go Il 5 Il Gianni Che cazzo fa Madonna Questa è la foto Pazzesco Pazzesco Inquadra lì che devo fare la copertina Grande Grazie grazie Mio fratello Mio fratello Zala Dai a Roma Raga io ho votato Ho votato Ho votato Madonna godo Madonna godo Madonna godo Bellissimo Vi dirò Ero preoccupato Perché non sentivo tanto Questa canzone Sull'Azza Sono onesto Non lo so Era un po' titubante Però poi effettivamente Appena ho iniziato a sentirlo Cantare su questa Cioè su questa canzone Ho detto ok No è vero Ci sta da Dio Perché l'Azza L'abbiamo imparato a sentire Sul pianoforte Questa è una dimostrazione I vari Remi da piano solo Lo sono Altrettanto E comunque Questo mood Da orchestra Questo mood Più Più classico Gli stava da Dio Poi la canzone La versione di Aeros Ramazzotti Io conosco quella È meravigliosa E credo sia una canzone Davvero della Madonna E loro l'hanno resa Davvero molto molto bella Potente È una gran bella voce Rock Graffiante Potente Bellissima storia Poi il violino Della scalla La ragazza Non ricordo come si chiama Fortissima pure lei Regà Prestazione davvero Di Cristo E di alto livello Speriamo Speriamo bene